L'opera della materia medica è un'opera contemporanea, perché la cultura non è negativa né moderna né passata né moda. La cultura è contemporanea e contemporanea e contemporanea da capacità e dall'amore di tutto il mondo. L'acqua è la propagandola. E oggi è anche il nome del giorno di prima pubblico, cioè celebrarlo a fianco a Mauro, perché il governo tedesco ha restituito all'antipotente dei genotipi i cinquecento, se mi ricordo appreso, dei columi rumbani. E' la cultura che ritorna, è la cultura che si rivolge. Io e Mauro ci conosciamo molto bene. Io voglio anche svelare un fatto della vita privata di Mauro che è anche della mia vita privata. Abbiamo, tra l'altro, una malattia vicina a tutti i veri, qui c'è il morbo di Gutenberg. Io e lui abbiamo invece una malattia incurabile che si chiama l'ibrinine. E' una dolcissima malattia incurabile contro la quale non ci sono antidoti. Neanche gli oscorite potete fare nulla, anche se probabilmente è stato lui che poi ha contagiato tutti gli altri. E' una dolcissima malattia senza possibilità di guarigione, con dei sintomi particolarmente interessanti. La creatività e la ricreatività. Perché questo è il libro, ci fa creare e ci crea ricreazione dello spirito. Gli assilopo a più mesi, circa 4.000 anni fa, conoscevano l'uso antidolorifico della calma di l'anno. Dopo 4.000 anni, l'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, Costa San Giorgio, sta producendo cana indiana per la terapia del dolore. E' bello dirlo soprattutto perché i lavori sull'uso, sulle proprietà antidolorifiche della calma di lì. Mi ha fatto un farmacologo napoletano, di recenti scommetri. Il professor Lovico Sorrentino. Ma Lovico Sorrentino non ha fatto solo il lavoro sulle proprietà antidolorifiche per il dolore acuto e grave della calma indiana. Ma ha anche fatto un magistrale studio avvitato moltissimi anni fa dal professore Donatelli sull'Ateria di Napoletano e sulle differenze e le rivalità tra Napoli e Venezia rispetto alla composizione dell'Ateria di Agaf. Ve ne ha parlato già il professore Sanderia che fa parte di quella favolta di farmacismo dell'Università Federico II che sta in un magico progiolo di ricerca e di rivalutazione del pensiero botanico, dell'utilizzo dell'idea medica. e con grande emozione ricordavano questo mezzo, ho chiesto e non lo sapevo e per me non l'ho testa di agliattari. Ho scoperto che il professore Caputo è il figlio del professore Caputo di Fisiologia vegetale che mio professore ha la facoltà di farmacia del Fontano nel 1260 conto che insieme alla Giuliana e alla professoressa di Risa Giulia ci insinuva, la Giuliana ci occupa di lui a realizzarci una nuova produttura di fisiologia vegetale e di botanica farmaceutica decisamente solida in un'epoca storica nella quale la mutualità e l'evoluzione dell'industria farmaceutica abbandonavano sempre più i prodotti a base vegetale perché c'era la diffusione dei servizi sanità e quindi l'industria farmaceutica quasi demolizzò in quel momento le radici e le tradizioni culturali del nostro paese. peraltro negando o meglio non evidenziando che la maggior parte dei fisioterapeutici non erano altri che i precursori della moderna farmaceutica. lo erano nel 1964-1964, lo sono tuttora e lo ho detto con l'intervento che sta facendo l'istituto farmaceutico per la terapia del dolore di Oscoride, un'opera magica, un'opera contemporanea che sta arrivati nella misura dell'acqua, da quello si è partito e da quello si è tratto tutta una serie di conoscenze che hanno attraversato gli ultimi tredici, quattordici, quattordici, quindici, sei, fino al 1600, fino al 1700 fino a che il neo, che era un botanico, se si ricorda, cominciò partendo dal di Oscoride a classificare le piante in modo tastonomico, famiglie, genere, specie e struttosto specie ma per arrivare a questo potremmo parlare di Leonardo da Vinci che comincia a ipotizzare una classificazione delle piante in forza del colore e non era un'idea del colore dei rispettivi fiori e non era un fatto, un'idea del colore dei rispettivi fiori, per passare da Machiavelli, come Mandrago per arrivare a Dante con le sue citazioni, per arrivare ad oggi con l'enorme valorezzazione e rivalutazione che semmai ce ne fosse stato bisogno. Dei farci gli origini, invece già. E poi diceva bene, certo, come momento della produzione, quindi come modello, anche il profitto, cioè, no, direi che il profitto, se c'è un investimento in una ricerca intellettuale che risponde però, perché quello che oggi deve caratterizzare una produzione di medicinali che attingono alla tradizione fitoterapica, questa è la sorta. Perché non sempre un prodotto, un fioro, una radice, una pianta, un arbusto, è efficace indipendentemente dal tempo di raccolta, non sempre questo stesso prodotto, è efficace a secondo che venga coltivato in un'azione subappellinica, in un'azione desertica o in un'azione pianeggiante. Un carciofo è sempre un carciofo, ma quel carciofo potrà dare, potrà avere effetti solo se quel carciofo carciofo sarà stato coltivato e raccolto nel rispetto di una serie di condizioni che sono citate da crioscoide e che sono perfezionate poi da tanti altri che, partendo dal primo approfondimento, hanno dato dei risultati. carciofo, ma questo perché? Perché oggi, nelle carciofo e altrove, si trovano quanti prodotti che vanno qui interamente solo perché di origine vegetale. Dipende dalla serietà e dalla capa città di investimento, ma anche di cultura e coscienza che caratterizzano la vita prodotti. Ecco perché? Io ho molto apprezzato quello che ha fatto Marco e mi ha dato, caro Marco, che stasera si è scoperto per il primo punto, un punto di partenza, non assolutamente un punto di arresto, non per rappresentare il libro, ma semplicemente per divulgare e anche istruire, con la potestia che ci caratterizza, i cittadini, ad una lettura critica, filtrata, di quello che il mercato, che è una bella parola, ma può essere anche una bestemmia, a seconda di come si orecchia, offre oggi al cittadino, a quale non sempre vuole alleggerire o vuole rigenerare, ma che spesso utilizza semplicemente come consumatore di un prodotto investito. Allora, benvengano questa serata, grazie, Marco, benvengano le nostre patologie, dal primo punto di parte di tutte le persone, le quali contagiare tutte le anime di vivere. E' bello affermare questo in una sala che profuma di libertà, di libertà rubricana, che profuma di progresso, di onestà e anche di sofferenza. Il fortuna di questo palazzo è stato chiuso per molti anni, non perché ricasse quello che ognuno di voi lo sa perché è stato, ognuno di voi sa come, quando e perché quel fortuna è stato aperto. E' così come si è aperto quel fortuna, dobbiamo aprire le nostre fortuna e le nostre coscienze al luogo che trae, che fonda nel passato le proprie radici e il suo ruolo a me approfondire. E chiudo ringraziando perché non voglio ulteriormente trattenerlo perché dallo sguardo di Mauro ho capito che è sicuramente disponibile per ripresentare alla vostra attenzione la ruolo. Io in quel momento sarò nel pubblico, sarò molto lieto perché io l'ho raccomandato di dire oggi in nome del progresso parleranno tutti quanti, tutti, medici e sapienti. Grazie. Grazie.